Un ritorno al passato. Dopo la chiusura del Lab vaccinale dell'Arsenale di Taranto, che ha consentito dal 3 giugno 2021 la somministrazione di circa 200.000 dosi, il Lab Palla Ricciardi è tornato ad essere il centro unico per le vaccinazioni nel capoluogo ionico, operativo senza prenotazioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e giovedì dalle 9 alle 17. Tutte le vaccinazioni precedentemente prenotate presso Lab dell'Arsenale saranno garantite senza variazione di date e orario nella nuova sede. Un momento importante per coinvolgere il maggior numero di persone possibili nella campagna vaccinale. Nelle prime due ore di lunedì una cinquantina di persone hanno raggiunto il nuovo Lab unico per vaccinarsi, si tratta in maggioranza di terze dosi. In una provincia invece ogni Lab garantirà l'apertura un giorno a settimana, come già avviene da qualche tempo. Oggi diventa l'unico centro aperto a Taranto, è un centro che serve a migliorare il numero di vaccinazioni, aumentarlo fino a quanto possibile e funge da sfogo per tutte le persone che hanno bisogno di fare la terza o addirittura ancora la prima vaccinazione. Spero che la comunità tarantina riesca ad apprezzare questo impegno del Dipartimento di Prevenzione dell'Asla di Taranto in maniera da completare il ciclo vaccinale per le persone che ancora non abbiano compiuto questo ciclo vaccinale. Quindi invito tutta l'utenza a utilizzare il Palariciardi come riferimento per le vaccinazioni. Il competimento vaccinale dà una sicurezza maggiore nell'affrontare la malattia in maniera da non dover ricorrere alle cure ospedaliere.